Sto riprendendo oggi il 15 di aprile 2009, l'innevamento che esiste dal Monte Gomito sulle piste, sulle famose Zeno 3, è ancora abbastanza frequentata, diciamo poco, perché c'è uno schilifer in funzione e l'ovovia, sono gli usci impianti ad oggi ancora aperti, perché ovviamente l'afflusso oggi è decisamente inferiore, comunque l'innevamento permetterebbe la durata dello ship perso per ancora un mese volendo. Si sposta leggermente e si vede che funziona anche la risalita della riva, guardate, sta funzionando la risalita, a quattro posti ci sono impianti di risalita, in cima si ha la selletta che è il punto di arrivo dell'impianto e da lì la ripartenza, sul lato destro dell'impianto si vede la partenza della riva, che è un bel paginone, è abbastanza difficile. Si intravede anche, ancora più sulla sinistra, una parte dell'arrivo, la parte finale dell'arrivo della selletta, dell'impianto della selletta, che è decisamente molto più facile, però è meraviglioso perché passa attraverso i boschi e è vivibile. Guardate, ancora in su, si va ancora in alto, guardate comunque l'innevamento che esiste ad oggi, è una passione per gli amanti dello ship, è veramente meraviglioso. Si notano in mezzo alle macchie di alberi, tutte le macchie di alberi, abbiamo diversi abeti e ci sono molti larici, che è un abete anch'esso, con la differenza che l'abete classico è un semprevetto e l'arice viceversa, rinnova ogni anno gli aghi. Qui in fondo abbiamo il piazzale, piazzale abbastanza ampio perché diciamoci a posto per qualche, poche centinaia di macchine via, comunque sono sufficienti.